Ciao a tutti, un breve e semplice riassunto delle stelle a neutroni Pulsar, Magnetar e Quasar. Iniziando dalle stelle a neutroni, queste sono delle ex stelle, dei corpi celesti molto molto piccoli. Pensate, hanno un diametro soltanto di 10-30 km, quindi più o meno sono grandi quanto una montagna, però sono molto dense e pesanti. Pensate che un cucchiaino di questa stella peserebbe milioni di tonnellate, quindi peserebbe più del monte Everest. E in genere hanno una massa compresa tra 1.4 e 3 masse solari, quindi anche se molto piccole, pesano più del Sole. Le stelle a neutroni si formano dopo l'esplosione di una supernova, quindi la stella ha esaurito le reazioni termonucleari e adesso qui la forza di gravità e la pressione prevalgono, quindi la stella si schiaccia, si comprime sempre di più, finché gli elettroni addirittura si fondono con i protoni, quindi più o meno si annullano e quindi si formano i neutroni con carica neutra. Quindi le stelle a neutroni sono delle vere e proprie stelle morte, sono i residui di quella che era una stella molto più grande del Sole. Se fossero stati più grandi si sarebbe potuto formare addirittura un buco nero. Infine sono formate da una crosta esterna che è molto sottile e solida, mentre all'interno abbiamo un nucleo superfluido formato prevalentemente da neutroni. Passiamo alle pulsar, che sono delle stelle a neutroni che ruotano velocemente su se stesse ed emettono questi fasci di irradeazioni un po' come un faro nella notte. La cosa incredibile è che pulsano a intervalli regolarissimi, esattamente come un orologio atomico, ruotano velocemente anche 700 giri al secondo e hanno un campo magnetico e una forza di gravità elevatissime. Quindi le chiamiamo pulsar proprio perché pulsano. E piccola curiosità che la prima pulsar fu osservata, scoperta nel 1967 e questi segnali radio emessi dalla stella inizialmente addirittura furono scambiati per segnali extraterrestri, proprio perché erano regolari e molto precisi. Anche le magnetar sono delle pulsar, quindi anche queste sono delle stelle a neutroni. La particolarità è che hanno un enorme campo magnetico, addirittura miliardi di volte quello terrestre, ed emettono anche raggi X e raggi gamma. Ad oggi però ne sono state scoperte soltanto una ventina. Infine abbiamo i quasar. Eccolo qui. Sembra quasi una stella, con un centro tondeggiante molto luminoso, ma in realtà i quasar non sono delle stelle, bensì delle galassie, quindi formate da miliardi di stelle. Queste galassie sono lontanissime, hanno un nucleo al centro molto molto brillante e lucente, ed emettono anche una radiazione molto molto intensa. E infine si ipotizza che queste emissioni di radiazione e questa luminosità molto intensa dipendono dal fatto che al centro di questa galassia ci sia un buco nero supermassiccio. Grazie a tutti.